negozio di fiori non ho capito se qua dobbiamo incontrare mac o comunque c'è elenor ok forse dobbiamo chiedere a lei per più cosa su mac oddio ho aperto la porta che fa anche il casino che colpo how are you dear amplify comunque ora mi sto adattando still just trying to adjust i think give yourself some time change is always hard già is mac here he was helping me not too long ago i think he just left can't have gotten too far got it thanks now what was I oh oh che è successo mo che è successo e per lo gnomo quello lì c'è ancora il rovino tra che è successo si sta prendendo paura perché non si ricorda cosa sta facendo da posto ci bisogna avvicinare la mano così inquietante c'è tipo un po' quando vai in panico perché non sai che cosa stavi facendo no e dici dove cacchio sono ok time to figure out why she's ma avrà sarà passata da charlotta ha preso qualche qualche droga non lo so no ok è la vecchiaia ecco sì è quello che dicevo appunto del ti svegli tipo un attimo e non sai che cacchio stavi facendo non andrà al college perché poi rimane con lei ok non vuole che si rovini la vita per questo capito era una chiamata di lavoro o era qualcun altro l'assegno cos'è rimane close ok tipo cos'è attacchi di panico una malattia degenerativa e chi è la morte che arriva a bussare la porta ok no pensaci meglio ma dai ti sei scordata prova a pensarci meglio ma non deve tranquilla tanto un sacco di tempo non toccare perché perché devi toccare le persone cosa avrà fatto Eleanor come prima cosa stamattina sicuramente avrà aperto la porta suppongo spero primo sorry we are you must have flipped the sign to open I always flip it first thing when I come in and then I open my mail something must have distracted me l'entrata da parte di ok ma avrai anche loggiato lo gnomo suppongo spero registratore no devo andare all'email le foto telefono per vedere se ci sono delle chiamate per vedere se ci sono delle chiamate yes yes il telefono e chi è la chiamata ah aspetta dentro qua c'era un cartellino che gli ha preparati i fiori aspettava la segna dov'è? oh avrà tagliato cioè li avrà preparati per qualcuno no? leggi tutto sfatto non lo so chi chi Riley? ah ah ok bu pensavo che quello lì fosse un'altra roba che magari quando non hai niente la guardi e boom non che ti avesse chiamato lei pensavo fosse un cliente che aveva chiamato di base allora ti dirò questo e gli è preparato l'ordine pagato con assegno no eh ovviamente 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 aiuta a prenderli prima di andare adesso dobbiamo scoprire chi lo chiamato controllo nel telefono il registratore ci sarà l'assegno no? col nome spero no? cioè spero abbiano messo no? non c'è scritto sopra? gigli? no c'era scritto con urgenza non so ultimo non è non appariva prendi l'assegno in teoria aprile così lit flowers ok no lit flowers a noi jed jed li ha pagati jededian si chiama ok è andata in panico è andata in panico perché si è scordata chi è probabilmente cioè arriverà anche al momento in cui si scorderà chi è suppongo cioè appunto è una roba degenerativa quindi potrebbe a meno che non muore prima è andata in panico tradizionalmente per funerals god non ricorda no risparmere del dolore non ha senso tanto verrà a saperlo dopo è inutile è Gabes Wake? Gabes Wake? Mi... ...missed... Alex... ...mi... I'm so sorry... Hey... Excuse me... Okay... That sucked... But... At least I told you the truth... That poor young man... How did I forget... Non è che l'hai fatta apposta eh... Cioè adesso va bene... Per carità... Capisco ma... I hope it's good news... Eleanor... Ospedale Purple Mountain... Vabbè... Chiaramente... Lettere dall'ospedale... Cosa devo fare eh? Cerca Mac vicino al negozio di fiori... Vicino al negozio di fiori vuol dire che è all'esterno... Maglietta? Di rabbia? Robobattle... Robobattle... Quindi si sono conosciuti lì? Conosciuti? Conosciuti? Fuck those pricks... You rule... And I... Would... Really like to see your robot... If you wanna show me... Cioè si sono... Hanno iniziato a frequentarsi lì... Semivari... Hanno iniziato a frequentarsi con sta Robobattle... E... E lei... Lei ha partecipato tra l'altro... E lui ovviamente ci ha provato subito... La macchina è vicino... Non lo vedo qui... Magari sul pietro? Sì... Tra tutti i posti che ci sono... Avete consigliati? Siccome ha domestichato un gatto a randagio... Ho trovato questa pala di pelo... Nel mio sacchino... La spazzatura è una bestia feroce... Allora... Quanto è grande? Questo... Questo è un... È un... È un koguaro... Che cacchia... Ha ha ha... Boh... Quello non è un gatto a randagio... È un cucciolo di puma... No... Infatti... Attenzione... Si sente minacciato... Diventa una grisilla... C'è la porta aperta... Magari se ne vada solo... Chiamo la protezione di mali... Ma... Non è un gatto... Cacchia... È un leone... È un leoncino... Mi dispiace... Ho preso il tuo aiuto... Solo che l'ho sconvolta... Vai tranquillo... Chi è? Steph? Boh... Va bene? Dov'è... McIntosh? Oh... Ho trovato... Sarà... Viola spaventato... Figurati... Sono così... F***o... Non puoi evitare da me sempre, Mac... Tantantant... Io sono dietro... Beh... Mac... 1v1... 1v1... Sei ancora più sospetto poi... Era il mio grande fratello... Non puoi... C'è qualcosa che... È sicuramente... Ha sconvolto... Se potessi... Puggerlo... A parte la città... Caderebbe giù nel lago... Però... Se vuoi farlo... Ma... Non devo fare niente... Non devo fare niente... Non devo fare niente... Cioè... Ti stanno probabilmente dicendo... Fai adesso... Perché sennò... Non fai più niente dopo... Ok... Non... 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 Non ho fatto niente... Puggerla! Puggerla! Non... Cioè... Dimmi se qualcuno si comporta così... Innocente... Sì? Ah... Adesso si sente osservata... Dalla telecamera... Lo scopri? Ah... Ho capito... C'è... Praticamente... C'è la Typhoon dappertutto... E la... La Typhoon sta... Sta... Praticamente... Monitorando tutto... E lei che comanda qua... Bello come articolo... Ucciso da un perdente... Ottimo articolo... Bravi... I giornali... Sono sempre... I classici... Eh... Ma vedi che comunque c'è scritto... Cioè... Non è... Non è una cosa che non è... Che è stata improvvisa... Alex? Ciao scusa un attimo... Sono... Pazza in questo momento... Non ti preoccupare... No... Cosa... 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 E lei da incolpare quindi... Adesso dobbiamo calmarlo... Com'è Altizio... Dall'altra parte... Cosa... 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 Ci siamo non ci sono mai lungi... Ma... Cosa è stato morto... E adesso... E ora... Typhoon正 presa... Ma mia mia amina... Cosa pensi... Mi siarano sono una morta... Ma i miei amici... Cosa... 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 Cosa deve fare? Beh, certo Mi dà un fastidio Con questo suono quando entra Nei pensieri della gente e tutto Cioè rovina un botto all'atmosfera Cioè io capisco che vogliono farti capire Che è un fastidio come situazione Però è un fastidio anche per me Non ha senso Beh, sicuramente C'è Diane In mezzo adesso Il prossimo obiettivo è lei Chi è? È tuttora essa? Ok Chi è? Ryan Nello stesso punto Oh Ecco Ecco Se si arrabbia Lui è arrabbiato sicuramente con se stesso Se si arrabbia anche lei non è che fanno a botte qua E poi non dovrebbe esserci anche un cartello per dire Oh Mi ha fatto esplodere l'altro giorno Vietato l'ingresso Mi è salvata Ryan Ryan Io ti dico la mia vita Non devi essere un eroe Cioè nessuno gli ha chiesto di essere un eroe Cioè nessuno gli ha chiesto di essere un eroe Quello Mi ho sentito solo Gabe ha chiesto di tani, Ryan Gio 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 Sì Gio 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 ma anche perché comunque alla fine guardi un attimo il fiume sotto per me è morto per il sasso non per la caduta cosa? questo è un luogo ma è il mio preferito è il mio preferito è il mio più vecchio 12 anni posso chiederti qualcosa? Sì, l'ha aspettato. Me l'ha detto lui. Sesto senso. Sì, l'ha detto che mi sono. E sarà più facile vedere che lo raccontare. Questo va sembra un po' strano al primo. E poi davvero strano. Mi confiattis? Scusami. Penso a qualcosa che ti fa infurare, penso a qualcosa di spaventoso, penso a qualcosa di triste. Qualcosa di spaventoso. No. Pensi a qualcosa che solo... ...scare di te. Scusami. Scusami. Perché ti fa arrabbiare ho paura che poi succeda del casino. Roba triste ho paura che poi si ammazza. Quindi facciamo qualcosa che spaventi. Scusami. ... 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 c'è un'altra chi è che rompe ma bacca gara drogati cos'è tipo felicità questa bianco giallo cos'è la felicità sta ridendo cioè non c'è la droga come emozione credo no mi sembra strafatto ma veramente si basta che no non mi dire con le nuvole di far qualcosa senti quello come ride ma è una macchina quella questa forse è un'oca ha investito un'oca con la macchina e ah la seppelliscono questa è la palla non è vero quindi ok ahia come cacchio non sono una persona normale che c'è che poi magari la gente lo prende come un insulto cioè uno ti dice non sei normale vuol dire che sei sei sbagliato cioè non sono normale vuol dire che c'è una cosa che è normale la normalità e c'è qualcosa che non è nella normalità ma E' quello che hai fatto con... con me? Non c'è nulla male con te. Sei un uccionista. Papi che maga! Non c'è mai stata le emozioni mali ma... quella... quella... pura meraviglia chi altro lo sa? Gabe C'è questo incredibile inside out comunque C'è questo anche E' così come vedo che Max è preoccupato di Typhon C'è riportato la chiamata di Gabe e hanno ignorato la chiamata ora stanno mettendo pressione sui per portare la linea Ok, ma... perché? Non lo so ancora ma... qualcuno ha fatto la decisione di lasciare il blast si fa sembra che trovare chi sarebbe un buon start quindi... tu... tu... si chiede a Mac scusa, Mac l'ha detto qualcuno, no? No, non voglio incasinarti sei staccato con me ora staccato con me un abbraccio è troppo come partenza è troppo You're a loose cannon, Jen but you get results Cioè se devo... se voglio far nascere qualcosa tra di loro non deve partire così di botto questo è per te, Gabe ti amico Metti su un po' di copyright vitro altro sempre che ho the vorrei che però sono si che I won't hold on to this place without you I didn't speak this morning I couldn't Hearing everyone talk about him About the life he had here with all of you I lost the chance to have that But even though I only had one day with him He changed my life I said I didn't know if I belonged here He told me That home isn't something you find It's something you build I won't hold on to this place without you I will let you fly I love you Kate C'è anche Diane Anche Mac ha gioia Diane non ha nulla I won't hold on to this place without you Sì sì guardami guardami I will let you fly I will say goodbye Ai 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 Non la vedo male Almeno per lei Eeeh Ah ok Tra l'altro c'è anche Charlotte non ha accettato i soldi della Typhoon 60% Quindi sono stronzo probabilmente Ho capito Cioè Cioè il discorso è che appunto La roba del Qualcuno sapeva del fatto Ma non ha risposto E ha comunque continuato E allora quello è un problema Non l'accettare i soldi per insabbiare qualcosa che non aveva Cioè è stata una fatalità Ma è accettare i soldi per insabbiare Questo è insabbiare qualcosa Allora lì non andavano a accettare i soldi Però scusa eh Ma me lo puoi dire prima Cioè noi l'abbiamo scoperto praticamente con Mac Del fatto che qualcuno aveva risposto E non l'hanno comunque ascoltato Perché appunto Un conto era se dovevi accettare qualcosa Che comunque Non Cosa insabbi Cosa devi insabbiare Che cosa fai Denuncia per cosa Che era stato detto e tutto Un altro conto è se è stato fatto lo stesso Nonostante fosse stato richiesto Insomma Vabbè potevo sedermi sul molo Halloween La gente aveva detto Halloween Sì ma chi ha scelto la gente? Ah Stormweather Bravi E vabbè Questo è stato Vabbè sicuramente più tranquillo Non è che può morire ogni volta qualcuno Vabbè